bella amici e amiche continuiamo legge non told Achille andiamo avanti con la storia e ha una potenza più potente a la sua disposizione di tutti gli enemici che hai combattuto così per te avere una possibilità di combattere, ho bisogno di portare il vostro amore per i dottori però questo lavoro necessita molto piccolo materiale, semplicemente un bambino con la scuola più che il più difficile di un'alloy più difficile da l'area. Il materiale di questo tipo di valore sarà invaluable per comprare nuove lavoro. O dove dovrei andare a procurare questa biazza? La cosa è che non ho capito. Non lo farò senza un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda. Un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda. Per questo caso, mi sono andato a trovare uno. Allora Non c'ho nulla. Ok, armatura degna degli dei. andiamo a trovare un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda. Alla prossima! eh i testoni sono in giro ma prosciugano la mia anima ho quattro abilità eh andiamo un attimo sbloccata allora lira poi io vorrei energia anche vorrei salute andiamo un attimo allora salute forza eccola qua la salute ok oh vediamo un attimo il trofeo che è contro attacchi li ho fatti grande mi mancava due o tre assurdo la cosa non sa dove sono i testoloni quelli rossi ok oh 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 spermia spermi tu vorrei tutti qui tutti qui ah non ne ero fatto perché erano tre cattivo ok ecco una non so dove saranno i teschi quelli rossi 3 3 vieni un attimo vediamo vediamo raga see him boys my power is growing surrender or die scuri signora non volevo ammazzarla ma era proprio in mezzo eh le scatole grazie vieni 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 guarda che sclippi cos'è questa roba? è un gatto è un gatto è un gatto è un gatto non lo faccio è un gatto delle catture è un gatto Kill the bastard! I'm looking for an expert hunter. Do you know someone like that here? If he was in the last group of refugees, he should be in the village near the swamps. But I'm afraid you're too late. How come? People say that a great beast attacked the village. A few defenders faced it, but didn't stand the slightest chance against it. If he managed to survive, it must have been some miracle. I need to try and find him. Thanks for the information. Take care. If you believe the rumors, that beast is a true monstrosity. I need to get him! Kill my boss! See him, boys! Kill my boss! Kill my boss! Kill my boss! Grazie a tutti. allora vediamo un attimo a livello ah vedi che c'è tutto un punto nuovo qua per quello che non avevo ancora sbloccato questo altare ma la città la traccia suggerisce qualcosa e riusci a subito bisogna inserir la situazione e non inviare la scena la risanda? cosa faci tu? dopo la morte del Cleyuti volevo chiedere dio la presente ma io ritrovò questa famiglia non potrebbero altre per sempre quindi io aiutaroni quando vediamo che il dell' giapponato è iniziare a 360 però la guerra ha arrivato anche qui. D'accordo, cosa stai facendo qui? Ho bisogno di farlo a un uomo che il cuore è più difficile da iron. Suppostamente è in grado di l'area. Lo vedo a correre i locali e rinforzare in grado. Questi madmane in blacca roba dovrebbero in grado. Bisogna ora pensavo che queste creature existono solo in fairy tales. Ma i miei non li. È una chimera. Aspetta se qualcuno nel villaggio riesce a salvare e portare queste persone a me. Inoltre, preparo qualcosa che ci aiuterà a guadagnare questo monstero. Credo che posso vedere un altare. Un altro bel altare. Non c'è la persona che si che vivi, devo continuare a escoltare. Massacrato mica male Niente The fear will consume you! The fear will consume you! The fear will be the same as it is! That's so hard! I'm not going to die! I'm going to die! I'm going to die! You're going to die! Oh, my God! Oh, my God! andiamo a chiudere il barco raga andiamo Grazie a tutti. 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 Allora abbiamo quattro fialette. Allora, questo lo abbiamo sbloccatino. Questa è forza. Non ho oggi tutte le abilità. Allora, arriviamo a sbloccatino. Allora, arriviamo a sbloccatino. No. Devo fare un po' di stamina con la verde. Adesso, adesso voglio arrivare a mille con... Ah, guarda qui c'è. una bella grossa. 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 No, 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 no. No, 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 no. L'80 con lo scudo... delle saggezza. Perché più 60? È sempre 80. allora diamo un attimo la mappa tanto per capire dove siamo se torno di qua dove torno sono una parte che comunque adesso non serve è chiusa spettardo carbone un sacco di roba ma era un ragno di fuoco un ragnozzo di fuoco no stavo amassando quello che mi spetterebbe nulla no 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 Ah ma lì, mi prende! Ah ma lì, mi prende! Bande. Mazzati tutti. Non ce ne facciamo quasi nulla. è bello grosso devo fare un po' più divertente ok, l'horcone grosso è un po' stupidoso sì, qua è tutto, anche l'avevo già fatto più buono ma vabbè, non ero entrato tanto a questo, ma sì dormendo praticamente intorno a tutti i morti quindi tanta roba no, 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 no io non so se quelli là i simboli che avevo trovato oh, qui è uno, si può restaurare sto prendendo un sacco di tempo ok, siamo già a mille è un po' di più è un po' tutto rosso, vabbiamo fatica a vedere cattivone sì, qua è una missione no, che è una cartina aspettate di mandarmi il fuoco una bella cartinozza no, che è un po' 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 andrà sempre a fuoco la vita resta da dentro, sì, qua è un po' ci sta no, che è un po' 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 che è un po' no, 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 che è un po' che è un po' Non mi preoccupi, non mi preoccupi Ho spero che puoi trovare la tua pazza Tobias è stato in dormito Pensavo che dopo aver riuscito fuori la città è meglio ma è avversa. Mi sono sicuro che è tutto perché di quella scuola che ha trovato nei ruinesi da casa. Si parla di tutto il tempo. Ci dovremmo uscire. Ho bisogno di andare là. La scuola sembra molto distruzione. ... Sì, ragazzi! Grazie, buon Sam. Get the horse, son! These madmen are murdering everyone, without exception. Everyone, you understand? They'll get what they deserve. Find shelter, it's not safe here. Thank you, sir. I'll do exactly that. Kill the bastard! Please, make those sons of bitches pay for it. May they perish in agony. I'll take care of them. You should find shelter. You should find shelter. I'll take care of you. Grazie a tutti Don't come closer or else Or else I can't promise anything I'm not one of them I came to save you Save us? Gods And I thought you were one of those lunatics Run toward the harbor straight My friend will take care of you there Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Una montagna di armi Avete visto in questo gioco È bellissimo Allora Grazie a tutti Grazie a tutti Allora Grazie a tutti La chimera Mi piace molto Quello che tu mi hai dato Grazie 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 Andiamo a distrugere la chimera Andiamo a distrugare la chimera Andiamo a distrugare la chimera I think that's the spot I can feel the stench Andiamo a distrugare la chimera Andiamo a distrugare la chimera Andiamo a distrugare la chimera Grazie a tutti Andiamo a distrugare la chimera Grazie a tutti Andiamo a distrugare la chimera Oh ragazzi No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. It's time to bring this close to the Smith.